buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere un progetto dei pin incentrato sulla gestione della gpu e lo sviluppo di intelligenza artificiale su solana l'obiettivo principale loro focus è di incoraggiare lo sviluppo di prodotti digitali e soprattutto prodotti legati all'intelligenza artificiale consentendo agli sviluppatori di accedere a risorse di elaborazione di dati illimitate a un costo molto molto più basso rispetto ad utilizzare risorse di elaborazioni fatte da aziende io net va a raccogliere della gpu inutilizzata da diverse font e permette a private organizzazioni di accedere a questa gpu inutilizzata potenzialmente illimitata dei costi bassissimi questo network è alimentato dal token io che serve per acquistare questa gpu e servizi annessi sicuramente alcuni di voi avranno pensato potrebbe già esistere un progetto similare dove l'ho già sentito infatti sicuramente starete pensando a render network e il funzionamento è molto molto simile tra le altre cose render è un partner dio punto net con il crescente interesse dell'intelligenza artificiale delle ml quindi la machine learning la crea il creare applicazione applicativi diventa sempre più costoso soprattutto visto l'immensa concorrenza è un grande fattore di rallentamento di questo sviluppo soprattutto da magari privati o piccole organizzazioni e riuscire per appunto a reperire a un costo più basso questa gpu o comunque una banca dati per riuscire a elaborare questi applicativi ed è qui che si vanno a inserire sia render sia io punto net infatti normalmente questi dati questa gpu è fornita da aziende centralizzate che richiedono a questi sviluppatori magari dei contratti a lungo termine e comunque molto molto costosi io nette come avete letto dalla copertina è un progetto di lancio equo di questa gpu e questa banca dati che è stato lanciato su solana che va a creare una rete di struttura fisica ma decentralizzata ed acqua rientra nei progetti de pin incentrata sulla potenza della gpu come viene reso possibile io nette accede a questo modello utilizzando la gpu inattiva che terze parti magari affittano per avere ovviamente un ritorno economico questa gpu può provenire da ad esempio data center indipendenti cripto minor altri progetti crito grafici che affittano la loro potenza di calcolo oppure anche da privati tutto questo racchiuso poi in un portale dove sia gli utenti possono accedere a queste gpu e da controparte può mettere in affitto la propria gpu io nette ha raggiunto 30 milioni di dollari di finanziamenti in un round di serie a e questa start up è stata valutata oltre un miliardo di dollari attimo a vedere chi sono gli investitori possiamo andare a leggere multi coin capita delfi digital conti in capital aclusi animo cabraini che troviamo ovviamente ovunque ok e ok ex ventures solana foundation poi tra più famosi the sandbox aptos amber group m13 e tramite il sito internet dello sviluppatore possiamo andare per appunto a vedere anche i partner dove abbiamo solana aptos da render network file coin come ho detto poc'anzi in poche parole io punto nette va a offrire fornitori un mercato per affittare delle proprie risorse proprio la gpu a sviluppatori cercano di ottenere delle risorse a basso costo per l'elaborazione on demand utilizzando ovviamente la blog cene va a creare una piattaforma trasparente per la gestione della potenza di calcolo come può venire questo io punto nette va a operare su base oraria dove gli utenti gli interessati possono per notare dei cluster per periodi specifici e io netto utilizza il suo concetto di proof of time lock che dimostra che la gpu non sono state utilizzate da altri servizi che avrebbero avuto un impatto sulla potenza di elaborazione durante il periodo in cui sono state affittate quindi va a utilizzare questa proof of time lock utilizzando la blog cene per andare a vedere che la potenza di calcolo che sia stata realmente affittata e utilizzata per quello specifico caso l'economia è basata sul token e io come ho accennato dove i fornitori di questa gpu vengono ricompensati in base all'utilizzo della propria gpu messa a disposizione mentre chi vuole questa gpu può pagare anzi deve pagare col token io quindi il token è integrato molto bene all'interno del progetto io nette una rete multistrato dove ogni strato ha uno specifico ruolo che tutto messo insieme fa funzionare questo ecosistema questi strati vanno ad includere ad esempio il primo l'interfaccia utente dove fornitori gli utenti fornitori gestori di nodi possono gestire le proprie risorse tramite un'interfaccia specifica dedicata alla funzione che sta utilizzando poi ovviamente c'è il livello di sicurezza che consiste nella presentazione di firewall nell'autentificazione due fattori nelle varie autenticazioni per accedere a questi servizi e per fornire o ricevere la gpu c'è poi uno strato di api dove consente di andare a collegare tramite queste chiavi a servizi e piattaforme esterne e poi abbiamo il livello di back end che il cuore del funzionamento di questo ecosistema dove gestisce le principali operazioni come ad esempio cluster gpu interazione con i clienti monitoraggio delle infrastrutture del funzionamento fatturazione e utilizzo delle risorse abbiamo il livello di database è costruito su un archivio di dati e funzionalità per l'ecosistema livello di attività dove gestisce la comunicazione i messaggi tra le varie parti come lavoratori e fornitori e poi per ultimo abbiamo il livello di infrastruttura dove va ospitare per appunto tutta l'infrastruttura di io punto net e gestisce e distribuisce tutte le operazioni di questa start up prima di poter accedere a questi prodotti e andiamo a vedere anche i prodotti oltre la gpu che consentono l'utilizzo di un et abbiamo io id quindi prima di accedere bisogna creare un id personale che è il centro di controllo dell'ecosistema per chi vuole utilizzare io punto net e gli utenti fruttori bisogneranno che si collegheranno poi a questi servizi tramite un wallet solana o wallet ad esempio aptos per andare a ricevere scambiare i pagamenti per chi vuole fornire per chi vuole fornire una gpu deve scaricare un client che si chiama io work e da lì che poi può andare a fornire la gpu e questi fornitori saranno ovviamente in grado di tramite all'interfaccia utente di andare a vedere la gpu che hanno messo a disposizione quale è stata utilizzata e i proventi derivanti da questa gpu poi abbiamo io cloud dove chi vuole avere questa gpu accedere a questa banca dati può accedere tramite questo database digitale e ricevere questa gpu ovviamente poi abbiamo anche un explorer dell'esplorio punto net che va a monitorare le transazioni la stabilità insomma tutte le informazioni necessarie con un explorer classico della rete questi prodotti li possiamo vedere per la punta la voce prodotto abbiamo il cloud worker e l'explorer per quanto riguarda la token omics come ho detto prima il token io e il fulcro il token utility della piattaforma dove regge tutta l'economia gli sviluppatori possono pagare per le risorse ottenute della rete eventualmente anche in usdc in altri token incluso ovviamente il token io i fornitori di gpu sulla rete vengono pagati solamente col token io e ovviamente gli sviluppatori che pagano per l'utilizzo della gpu con il token io vanno a vedere di alcuni vantaggi come ad esempio commissioni di transazione pari a zero o ridotte in base al servizio scelto la commissione di transazione del 2 per cento viene solitamente applica applicata ai pagamenti di qualsiasi altro token quindi i titolari token holder possono token holder che sono degli utilizzatori avere un vantaggio anche economico ovviamente i titolari del token io possono anche guadagnare entrate extra andando a mettere in staking sui nodi della rete saranno coniati in totale 800 milioni di toque io sulla rete solana mentre la fornitura al lancio è stata di 500 milioni di toque e 300 milioni saranno riservati per le ricompense hanno un attimo a parlare dei partner come ad esempio a render network che fa più o meno lo stesso lavoro anche con alcune differenze come ad esempio i prezzi la differenza principale tra due network e lo scopo per cui sono state costruite ad esempio io e netta è stata costruita pensando agli sviluppatori che vanno a creare modelli di intelligenza artificiale e machine learning la struttura è ottimizzata per le loro operazioni invece d'altro canto la rete render è stata costruita su una struttura moltissimo multiuso inizialmente per le operazioni di rendering ovvero di video e poi adattata a supportare anche ai e machine learning render come abbiamo visto stiamo vedendo è una stretta una partnership con io punto net che va ad aggiungere la sua rete di fornitore gpu distribuita io nette io nette ha assegnato 300.000 render al suo programma di incentivo early bene direi che per questa panoramica generale sui appunto net e tutto se siete interessati a conoscere più approfonditamente il progetto vi invito ai canali ufficiali ea seguire le loro community fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto dei pin e se ne conoscevate altre ma soprattutto se preferite io punto net o render vi aspetto nei commenti ciao a tutti alla prossima